Beh dai facciamo un bel video con la bandiera in bella vista. Ho visto la notizia che Henry, attaccante del Verona, è stato squalificato per Verona-Milan di domenica e questo evidentemente spiace, spiace perché Henry è stato protagonista di una brutta scena, di una brutta vicenda alla fine di Lecce-Verona che ha portato all'espulsione di D'Aversa, allenatore del Lecce a sua volta poi le quattro giornate di squalifica per D'Aversa e l'esonero di D'Aversa. Brutti, brutti episodi come è stato brutto l'episodio di ieri al Montjuic, prima di Barcellona-Napoli a bordo campo durante un momento ufficiale UEFA, la UEFA credo che abbia notato e non debba solo notare ma anche c'è stato uno spintone, c'è stata una cosa brutta insomma, l'avete vista tutti, non voglio entrare nel merito non voglio fare nomi, Napoli è una città meravigliosa, Napoli ha una tifoseria meravigliosa ma la cosa che è successa ieri sono convinto che Napoli sia la prima a prenderne le distanze comunque sia, andiamo avanti. Suma pensa a Verona-Milan, sì, penso a tutto, penso a Verona-Milan perché c'era un periodo nella stagione 20-21 in cui noi eravamo molto bravi a fare giovedì-domenica ricordo proprio una vittoria a Verona tre giorni dopo l'Europa League e anche una vittoria a Firenze tre giorni dopo l'Europa League. Quindi dobbiamo far bene ragazzi, dobbiamo far bene, dobbiamo far bene quel Verona del 20-21 e quel Verona di Juric, vincemmo con i gol di Dalot e di Krunic, due gol bellissimi dobbiamo far bene questa settimana, questa settimana è molto molto importante pensate come sarebbe bello se riuscissimo ad arrivare alla sosta, al secondo posto e ai quarti di finale di Europa League per me sarebbe strepitoso, per me sarebbe bellissimo, io ci tengo, ci soffro per la squadra spero che sia così anche per i tifosi perché vedo in giro cose strane, cioè gente che si augura la qualunque a patto che. Prima vi ho ammollato il ricordo di Andrea Rizzoli, adesso vi ammollo a Rigosacchi, ma ci pensate a Rigosacchi che perde in casa con l'Espagnol, che perde in casa con la Fiorentina ci fosse stata la sequela di profili social pronti ad accanirsi contro di lui sarebbe stato sacchi out e non ci sarebbe stato il periodo degli immortali, non lo so, io non voglio spegnere il diritto di critica mancherebbe altro, però discutere un po' di accanimenti, cattiverie, veleni ed esagerazioni sì di quello mi piacerebbe discutere, ma adesso pensiamo alle nostre cose. Allora, succede una cosa particolare a Praga, ve lo dico subito, affrontiamo un po' di numerologia, noi a Praga contro lo Sparta-Praga non abbiamo mai subito gol dal 1973 a oggi, sono tanti anni, nel 1973 noi vincemmo 1-0 la semifinale di ritorno di Coppa delle Coppe, quattro giorni dopo quel Lazio-Milan in cui ci venne annullato il gol regolare di Chiarugi dall'arbitro Lobello che ci sarebbe costato lo scudetto. Andammo a Praga, vincemmo 1-0, gol di Chiarugi in porta c'era William Vecchio. Dopo quella partita lì del 1973 siamo tornati a Praga nel dicembre 1995, sempre allo stadio Letna, sempre contro lo Sparta, stiamo parlando di parite con lo Sparta, 0-0. Era la gara di ritorno degli ottavi di finale di Coppa UE, fa l'andata avevamo vinto 2-0 con doppietta di UE, al ritorno c'era il mio amico Mario Ielpo in porta, che fece una grande gara, finì 0-0. Quindi 0 gol subiti. Poi andiamo al 2003-2004 con la Champions League, la Champions League andata degli ottavi di finale, 0-0, anche lì 0 gol subiti. Poi vincemmo 4-1 al ritorno e ci saremmo qualificati poi per i quarti di finale di Champions League. Non è finita, ancora a Praga, sempre allo stadio Letna, sempre contro lo Sparta, nel 2020, ultima giornata della fase a Gironi. 1-0 per il Milan, in porta Tatarusanu, gol di Jens-Pieter Auge. 4 partite, lo stadio Letna contro lo Sparta, 0 gol subiti dal 1973 a oggi, pensate. E con lo Slavia? Con lo Slavia mai giocato nelle Coppe Europee, ma attenzione, una volta che siamo andati nello stadio dello Slavia-Praga i gol, i gol li abbiamo presi. Quindi iniziate a esorcizzare, iniziate a lavorare anche voi, ad avere questi problemi. Nel dicembre 2011 c'era, l'ultima giornata della fase a Gironi di Champions League, eravamo già qualificati, Victoria Pelsen-Milan. Nel Gironi avevamo battuto 2-0 il Victoria Pelsen, ormai eravamo qualificati. Ultima giornata non si gioca nello stadiolo del Victoria Pelsen, ma si gioca alla Eden Arena, lo stadio dello Slavia. Vincevamo 2-0 fino all'89 con i gol di Pato e Rubinio, poi il Victoria Pelsen pareggia. Un gol all'89, un gol al 93, finisce 2-2. Chiaro che se giovedì finisse 2-2 saremmo tutti felici e contenti. Però intanto attenzione, ve l'ammollo anche a voi, così vi preoccupate anche voi. Se sul campo dello Sparta-Praga il Milan non prende mai gol, sul campo dello Slavia una volta che si è giocato ne ha presi due. E siccome certe cose vanno in campo, però abbiamo quasi sempre segnato. Arrivo a dirvi che tra lo stadio dello Slavia e lo stadio dello Sparta abbiamo segnato lo stesso numero di gol. Due sul campo dello Sparta, Aughe e Chiarugi, due sul campo dello Slavia, Pato e Rubinio, anche se sul campo dello Slavia giocavamo con il Victoria Pelsen. Per cui la media gol è alta, però è chiaro che bisogna cercare di non prendere gol. Giochiamo contro un tecnico che è bello tosto, che ha la sua personalità, Tripsikovski. Dobbiamo affrontare anche lui, anche il carisma che mette addosso i suoi giocatori, con cui questo 4-0 contro lo Slovan Liberec un po' mi preoccupa, francamente. Ci sono un po' di ballottaggi di formazione. Vedremo se saremo ancora con Benassere Reinders oppure con Adli Reinders o con Adli Benassere. Tutto può essere. Torna Rafa Leao. leggevo una cosa di Pelle Gatti che è fiducioso in Ciucuese, quindi per un attimo non mi sono sentito da solo sul carro perché questo ragazzo ci tengo che non venga mollato e sbolognato così. È stata una stagione particolare. Guardate anche il Milan. Il Milan da un punto in meno dell'anno scudetto. L'anno scorso è stata una stagione balorda, ragazzi. L'anno scorso abbiamo avuto una crisi tremenda, devastante a gennaio perché era una stagione anomala, perché il Milan dopo il Mondiale non è riuscito a riprendersi con il Mondiale a metà stagione. Il Mondiale a metà stagione c'è stato per tutti. Non deve essere un alibi, non deve essere una scusante. Noi l'abbiamo pagato più di tutti, succede. Però quando le stagioni non sono anomali, il Milan fa il suo, il Milan fa i suoi punti. Però vedremo, vedremo che cosa accadrà, vedremo chi giocherà in difesa, vedremo tante cose. Ma l'importante è che adesso la squadra sa che deve andare a fare una partita seria e importante. Noi contro il Rennes abbiamo giocato meglio all'andata che al ritorno. Mi auguro che con lo Slavia noi si giochi meglio al ritorno che all'andata, anche se vincere 4-2 con il regolamento delle cup europee di oggi è come vincere 2-0 e noi saremmo stati felici prima di Minaslavia se ci avessero detto che avremmo vinto 2-0. Però è chiaro che l'andamento ha fatto discuta. Non voglio minimizzare. Ma dobbiamo fare una partita importante a Praga e speriamo bene. A domani.